Loro attaccano. Noi attacchiamo. Di tanto in tanto, la forza del nostro assalto è tale che le nubi si squarciano e lasciano intravedere il mondo oltre la guerra, fuori dalla nostra portata. La guerra è il mondo. Il mondo è la guerra. Ma dietro l'unico c'è un essere umano. Quelle persone siamo noi. I cinici e l'ingegno. I giusti e i disonesti. Siamo destinati alla leggenda o a svanire nella storia. Siamo cavalieri del cielo, fantasmi del deserto, topi che strisciano nel fango. Queste sono le nostre storie. Siamo a metà e imbattare. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.